Buon pomeriggio ragazzacci e rari amici, è una bella giornata, il sole alto un cielo e niente è meglio che andasse a prendere un gelatino dentro l'utero materno dai nostri amici del Pesca Club Salone. E' un pomeriggio molto... è caldo però, non troppo, non è afoso, non abbiamo quell'afa che ci rompe le scatole e non ci fa respirare. Buona, buona, milfona, non ti agita, è agiomenta e nervosa, quando non la prendo quasi mai, a volte capita che scalpita, è snazzicosa, del resto è femmina, è giusto che sia così, è chiappona, è bella, è bassa, larga, chiappona e bombata. Cosa vuol dire di più? Ci andiamo a prendere sto gelatino, così se rinfresca un pochino. Bello, è solo dal 1996 che vengo a questo laghetto, ragazzi. E godetevi i momenti belli della vita, godeteveli, non importa dentro a che mezzo state, come siete vestiti, quello che fate, quello che non fate, siate felici con quello che avete. Io sono felicissimo con lei, anche io vorrei guidare una Ferrari, una Porsche, purtroppo non me lo posso permettere, non me lamento, cioè non me lamento perché, cioè, al finale, non si lamentiamo. Abbassa la salute, come dice il dottore mio, perché così lui lavora di meno, se c'è la salute. Ciao ragazzuoli e buon pomeriggio.